Seat continua il suo impegno sullo sviluppo delle vetture a metano e proprio qui presentiamo la prima Arona a metano appena arrivata in Italia, che è l'Arona TGI, anche perché Seat sta lavorando da tempo sulla strategia di una mobilità sostenibile e adesso con l'Arona a metano riusciamo ad avere finalmente la gamma più ampia sul metano, non solo con le vetture berlina, quindi con l'Ibiza e la Leon, ma anche con delle vetture che sono assolutamente uniche in Europa come l'Arona a metano, che è il primo crossover a metano. Inoltre con queste vetture noi lanciamo i nuovi motori, che sono motori monofuel, per cui con un'autonomia di metano che è decisamente più alta, che va solo di metano intorno ai 410 per l'Arona a metano, per avere un'autonomia complessiva tra benzina e metano di circa 580 chilometri.